Benvenuti ad una nuova edizione del Tg7 Basilicata. I militari dell'arma hanno arrestato un 41enne della provincia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I carabinieri hanno risposto alla richiesta di aiuto pervenuta dalle dipendenti di un esercizio commerciale della provincia di Potenza che lamentavano molestie da un uomo in evidente stato di ebbrezza, giunto poco prima a piedi. Il tempestivo intervento dei militari dell'arma non è stato preso di buon grado dall'uomo che da subito si è mostrato insofferente ed ostile per il controllo effettuato nei suoi confronti, rifiutandosi di sottoporsi al test dell'etilometro ed arrivando ad ingiuriare e aggredire i carabinieri che stavano tentando di riportarlo alla calma. Immediato il sopraggiungere di rinforzi da parte delle pattuglie di Melfi e Tolve che hanno bloccato l'uomo in perdurante stato di agitazione, arrestandolo. Per questa edizione è tutto, ci ritroviamo nelle prossime edizioni sempre al Tg7 Basilicata. Arrivederci.